Benvenuti nell'Artico, uno dei luoghi più difficili e straordinari del mondo. Per Mamma Ursa Polare e i suoi cuccioli, ogni giorno è un'avventura. Ogni stagione porta nuove sfide. E il pericolo può arrivare da qualunque direzione. Eppure dovrà insegnare ai suoi cuccioli come vivere e crescere in uno degli ambienti più estremi del mondo. E se saranno fortunati, tramanderanno i suoi segreti di sopravvivenza alle proprie famiglie. Disney Nature ti invita a uno straordinario viaggio di speranza, resilienza e famiglia. Polar Bear, disponibile dal 22 aprile solo su Disney+. Grazie a tutti.